Reggio Calabria, operazione Raccordo, due i fermi, entrambi appartenenti alla Cosca Crucitti. Reggio Calabria, 11 aprile 2011, operazione Raccordo. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un fermo del pubblico ministero nei confronti di due indagati di appartenenza all'Andrangheta nella sua articolazione territoriale denominata Cosca Crucitti, dominante sulla locale di Condera Pietrastorta, zona nord-est di Reggio Calabria, ricoprendo uno la carica di capo locale e l'altro un ruolo di vertice. Le indagini, che hanno consentito di cogliere plurimi elementi che rivelano l'attuale operatività della predetta Cosca Crucitti, gravitante nell'orbita del gruppo criminale De Stefano Tegano, hanno evidenziato la sfissiante pressione nei confronti di esercenti commerciali operanti in questo centro per consentire all'organizzazione criminale di acquisire il controllo di attività economiche. In particolare, l'indagine ha rilevato la forza finanziaria del sodalizio legata all'intermediazione del credito e all'imprenditoria edile, espressione della stessa capacità di impresa dei due indagati, imprenditori con ruoli di vertice nella Cosca mafiosa. Gli arrestati sono Crucitti Santo, Torreggio Calabria nel 1963, imprenditore edile e capo locale. Chilà Mario Salvatore, nato a Reggio Calabria anche lui nel 1963, luogotenente del Crucitti. La conferenza stampa, che di seguito vi viene qui proposta, ha chiarito gli aspetti associativi relativi al controllo economico delle attività nel settore edile e di intermediazione finanziaria, sullo sfondo di alcuni episodi di carattere estorsivo nei confronti di noti esercizi pubblici e a volontà della Cosca di ostacolare i tentativi di esponenti della società civile nei loro tentativi di creare associazioni socio-culturali per lo sviluppo del territorio e la presa di coscienza nella lotta alla mafia.